Segretario Offer, la Giunta Provinciale di Trento ha delineato le direttive per i rinnovi contrattuali. Quali sono le aspettative dei professionisti infermieri e sanitari iscritti a Narsingap? Innanzitutto una grande aspettativa è quella di avere un'area di contrattazione distinta e separata rispetto al restante personale, perché l'attuale modello di contrattazione collettiva non rende merito ai nostri professionisti sanitari che sono omogenizzati verso il basso. All'interno di questa contrattazione noi chiediamo che ci sia una reale valorizzazione delle competenze professionali, dei percorsi. Abbiamo professionisti che ormai hanno acquisito anche master, specializzazioni, dottorati di ricerca, lauree magistrali e devono trovare un percorso di valorizzazione all'interno di questo contratto. Poi abbiamo tutto il discorso delle nuove indennità che derivano dalle leggi finanziarie nazionali del 2020. Abbiamo l'indennità professionale infermieristica e per le professioni sanitarie che devono essere a nostro avviso inserite in questo contratto. Abbiamo tutta la questione anche dei part-time, della normativa sulla tutela materno-infantile, orario di lavoro, che deve essere aggiornata alla nuova legislazione e quindi, visto anche la grande componente femminile che abbiamo, questi istituti contrattuali devono essere particolarmente aderenti alle esigenze dei nostri professionisti. Abbiamo tutta la problematica del burnout e anche delle aggressioni che il contratto deve affrontare, a nostro avviso. In più abbiamo tutta la vicenda degli arretrati del vecchio contratto 2019-2021 che non sono ancora stati finanziati da questa giunta provinciale. La sanità trentina patisce anche carenza di personale infermieristico sanitario. Quali sono, a suo avviso, le azioni da adottare per migliorare la situazione? Premesso che noi abbiamo una situazione già di carenza cronica, che si è, diciamo, aggravata negli anni, e dovremo affrontare uno tsunami demografico perché 1.200 professionisti andranno in pensione nei prossimi sette anni, noi crediamo che la nostra azienda sanitaria e la nostra giunta debbano adottare tutta una serie di provvedimenti in maniera emergenziale. Innanzitutto bisognerà migliorare le condizioni di lavoro, garantendo ai nostri professionisti un adeguato recupero psicofisico, altrimenti alla lunga in tanti iniziano a pensare di cambiare lavoro, se hanno delle condizioni di invivibilità a livello lavorativo. Appunto dobbiamo puntare su istituti contrattuali come il part-time e la tutela materno-infantile, incentivare questi istituti contrattuali che potrebbero permettere la permanenza e la compatibilità lavorativa di questi professionisti che altrimenti sceglierebbero di andare altrove. Abbiamo la necessità di garantire un riconoscimento di carriera e di sviluppo professionale, perché chiaramente se vogliamo trattenere i nostri professionisti bisogna che li garantiamo uno sviluppo di carriera. Dobbiamo mettere in essere dei meccanismi per fidelizzare la permanenza dei nostri professionisti, dare un incentivo legato magari alla permanenza per tot anni nella nostra azienda, dare un incentivo di fedeltà ai nostri dipendenti. Garantirgli anche la formazione ECM in orario di servizio gratuita, anche questo potrebbe essere un incentivo alla permanenza nella nostra azienda. E non da ultimo dare la possibilità, così come hanno i medici, di poter esercitare la libera professione intramegna. Non si capisce come mai in Italia alcuni professionisti sanitari abbiano questa possibilità e ad altri sia negata. E quindi si crea un discrimine tra categorie di professionisti sanitari. Noi in questo siamo totalmente svantaggiati rispetto ai professionisti medici. La contrattazione nazionale è in fase di conclusione. La contrattazione trentina appare invece in ritardo. Per quale motivo? Ecco, qua si è creato un po' un paradosso. Il paradosso è questo. Il trentino è sempre stato un elemento di punta, sia in termini di finanziamenti economici che adozione di istituti giuridici avanzati nella contrattazione. E quello che sta succedendo ultimamente è che siamo stati sopravanzati da altre realtà come Bolzano e la Val d'Aosta e anche dal contratto nazionale. E mi spiego meglio. A livello nazionale, sia in Val d'Aosta che a Bolzano, hanno già stanziato i fondi per attivare subito queste nuove indennità, l'indennità di specificità infermieristiche e indennità per le professioni sanitarie. Nella nostra provincia tutto tacce. si continua a rimandare, mentre siamo in piena emergenza, i nostri professionisti sono in fuga, e questi provvedimenti di finanziamento non sono ancora stati adottati. Così come non sono stati finanziati anche i fondi per i pronti soccorsi, per finanziare i pronti soccorsi, cosa che è già contenuta nelle norme nazionali. E abbiamo tutto il capitolo, ancora degli arretrati, del contratto 2019-2021, dove abbiamo l'impegno di Fugatti, che è stato sancito nel protocollo d'intesa che il Narsing Up ha firmato il 16 dicembre 2021, e che ci auguriamo al più presto di vedere concretizzato in risultati concreti. Cioè noi aspettiamo questo finanziamento e che sia un finanziamento cospicuo e anche celere. Inoltre chiediamo che tra i vari comparti di contrattazione sia data priorità e celerità all'immediata attivazione della contrattazione nel comparto sanità. Rispetto agli altri comparti, il comparto sanità è in una situazione di grave emergenza e quindi merita la priorità. Il 5, 6, 7 aprile ci saranno in APSS le elezioni RSU. Nelle ultime 5 tornate elettorali la lista Narsing Up è stata la più votata. Segretario Offer, quali saranno le tematiche che porterete all'evidenza dell'amministrazione tramite i rappresentanti eletti? Ecco, chiaramente il nostro intento è quello di riconfermarci tramite la nostra lista come la lista più votata. Nelle ultime 5 tornate è stato così. I dati che sono pervenuti l'altro giorno confermano come Narsing Up sia il sindacato col maggior numero di iscritti all'interno della nostra azienda e quindi noi crediamo che l'Assemblea RSU debba impegnare la propria attenzione sulle tematiche che sono stati tradizionalmente oggetto di contrattazione con l'azienda e che sono comunque il part-time, la tutela materno-infantile, l'orario di lavoro, tutto il discorso sugli incentivi legati alla valutazione, tutte le norme che riguardano la sicurezza del lavoratore e inoltre tutte le materie che eventualmente la contrattazione primaria, una volta conclusa, delegherà alla contrattazione aziendale con la RSU.